Oggi disegniamo l'occhio Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Nuovo video del corso di disegno Oggi corso base per principianti Come impostare il disegno dell'occhio Ci sono tantissimi modi di disegnare l'occhio Ci sono tantissime espressioni degli occhi Ci sono tantissime pieghe degli occhi Però si parte sempre da un'impostazione basica Che potrebbe essere per tutti gli occhi la stessa Cioè il cerchio Partendo dal cerchio vediamo come fare sviluppare un occhio Avvertenza il video non è completo Nel senso che io non ho portato il disegno a compimento totale Ma vi ho fatto semplicemente capire come impostarlo Poi avrei dovuto lavorarci un'altra buona retta Per rendere quell'occhio veramente reale Però non mi sembrava necessario per un corso base Perché va bene così Non voglio farvi vedere come disegnare un occhio iper realista Voglio semplicemente farvi vedere come impostare il disegno di un occhio Poi quale occhio voi disegnate A me non riguarda È semplicemente un modo per sviluppare la tecnica E allenarvi Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere l'occhio Come si fa Ed ecco l'occorrente per disegnare Io userò il mio set di matite della Derwent Perché ha tutta la gamma B completa La gomma pane È un buon temperino Quello serve sempre Tant'è che io prima di ogni lavoro Tempero tutte le matite Come carta uso la Mixed Media della Fabriano Mi chiedete sempre che blocco conviene comprare Per avere un blocco unico per diverse tecniche Questo è uno dei migliori in commercio Per i disegni servono gli sfumini Sono un complemento necessario Vi lascio il link dove vi insegno come farli Una gomma elettrica con relativi gommini Una gomma normale Poi una matita a pinza All'interno della quale io inserirò segmenti di gomma È un taglierino per tagliare appunto la gomma Cominciamo subito E cominciamo a disegnare L'elemento geometrico che comanda la costruzione dell'occhio Che è un cerchio In realtà nel costrutto dello scheletro umano Per costruire gli occhi Dovete fare due cerchi Intervallati da un terzo cerchio della stessa dimensione In questo modo avrete i due fori All'interno dei quali andranno ad alloggiare gli occhi Quindi tre cerchi Uno al centro lo lasciate vuoto Negli altri due potete comporre il disegno degli occhi Ma adesso veniamo a noi Quindi disegnato il nostro cerchio Dividiamolo in sezioni Dobbiamo far sì che in verticale e in orizzontale Venga diviso in tre parti uguali Una sorta di gioco del tris All'interno di questo cerchio Dovete semplicemente prestare attenzione A fare le parti della grandezza più simile possibile Naturalmente se volete un occhio più grande Più aperto Potete allargare la zona centrale Come ho fatto io in questo caso Adesso partendo dalla linea in basso Sollevate la curva Che deve toccare l'intersezione delle due linee La linea superiore per poi ridiscendere leggermente Poi dalla parte inferiore Fate partire la parte più vicina al setto nasale Fate una leggera curva all'insù E poi appoggiate sulla linea inferiore Per poi risalire verso l'arcata superiore E fin qui io ho usato una matita molto secca Addirittura mi sembra di aver usato un HB Adesso però cominciamo ad intensificare Le linee guida dell'occhio Quindi il contorno e la liride E definiamo anche la pupilla Facciamo una bella linea spessa E dalla grafite che porremo su queste linee Poi lavoreremo con gli sfumini per intensificare Allora a questo punto Quindi dopo aver definito l'occhio Cambio matita E prendo una 4B per fare queste linee guida Nel disegnare l'iride Sto attenta a lasciare delle porzioni di riflesso Totalmente bianche Io le sto sintetizzando con due piccoli trapezzi laterali È molto importante tra la palpebra superiore Tra la curva delle ciglia E la curva del cerchio Una linea che dovrete fare tondeggiante O leggermente spezzata In questo potete deciderlo liberamente Dipende dall'occhio se è giovane o più anziano Quella sarà appunto la linea della palpebra Quella su cui andrà a insinuarsi l'ombra Mentre superiormente al cerchio Andremo a costruire il sopracciglio Ora per esemplificazione Io qua sto seguendo esattamente la linea del cerchio Per seguire il sopracciglio in questo disegno Ma sappiate che seguendo la linea del cerchio Viene un sopracciglio molto arcuato e piccolo Un sopracciglio che di solito si presta di più ai soggetti anziani Mentre per i soggetti giovani Il sopracciglio seguirà una linea che vedremo tra un pochino Vado ad intensificare quindi la pupilla Vado ad intensificare le linee esterne dell'iride Vado ad intensificare tutta la linea del contorno occhio E vado ad intensificare anche la linea della palpebra superiore La linea appunto della palpebra che poi diventa calante col tempo per intenderci Adesso vado ad intensificare quella che è la coloritura dell'iride Parto leggera dalla parte superiore sottostante la curva delle ciglia Quindi continuo l'ombra anche nella parte più vicina al setto nasale Intensifico nella parte della rima inferiore E intensifico con una matita non troppo grassa Una 3B Anche nella parte subito sotto le ciglia Quello poi lo sfumerò tutto con lo sfumino Come vedete vado proprio ad immettere un nero profondo Cerco proprio di andare in profondità Per dare il senso della distanza Per dare il senso della profondità Ora andiamo ad intensificare l'incavo della palpebra superiore Che come vedete ho portato più giù verso il setto nasale In pratica E vado anche ad intensificare ulteriormente Quelle che voglio che siano le parti che risultino più sfumate successivamente Con gli sfumini inizio a sfumare Portando verso l'interno dell'occhio La grafite che ho depositato sul contorno degli occhi Come vedete faccio prima il contorno occhi Che sarà comunque più in ombra Perché dovrà dettare la profondità tra l'occhio e la pupilla E naturalmente la sclera E poi vado a spandere il colore Per creare anche la coloritura dell'occhio Che definiremo in un secondo momento Come vedete gli sfumini sono molto importanti per questo lavoro Così come la gomma elettrica Che riesce a darmi il bianco assoluto Su un foglio che ho precedentemente sporcato E su cui poi vado a immettere ancora ombreggiature con lo sfumino Poi prendo la matita per inserire i tratti tipici dell'occhio Quelle linee che dal centro della pupilla si irradiano su tutto l'iride E le accenno leggermente Scusate ho messo la mano davanti Non si vede perfettamente Ma adesso vedrete la finale E intensifico ancora la pupilla in maniera veramente veramente intensa Con una matita 8b vado ad insinuare il grado più scuro di grigio nero Che voglio immettere Proprio per creare un'ombreggiatura che sia molto profonda E per creare anche una coloritura Con la stessa matita vado a immettere anche del colore Nella piega della palpebra superiore E comincio a sfumare Comincio a sfumare proprio sulla linea E porto sia verso l'alto Maggiormente E un po' anche verso il basso La grafite Ecco qua Vedete che subito l'occhio acquista una bella profondità Si capiscono le parti aggettanti e le parti rientranti E' tutta una questione di sfumature Adesso mi accingo alla prima costruzione del sopracciglio Vi ho detto che questo lo faccio seguente il cerchio Quindi do una leggera coloritura a tutto Ma proprio leggera E sfumo tutta la base con lo sfumino Quella sarà la zona occupata dal mio sopracciglio Poi andrò a temperare benissimo Dapprima una matita più secca Quindi una 3B E poi una matita più grassa Una 4 Una 8B Per fare i peli un pochettino più in evidenza Naturalmente mi aiuto con la gomma elettrica Per togliere i tratti di quello che era il costrutto E per rendere il sopracciglio Con la curva che desidero In questo caso vi dicevo mi tengo stretta E comincio ad inserire i peletti uno per uno Qui non ci sono alternative Matita super temperata E emissione pelo dopo pelo Di tutti i componenti del sopracciglio Seguendo l'andamento naturale dello stesso Quindi studiate come è fatto un sopracciglio vero Prima con matita più secca E poi con matita più grassa e più intensa Adesso continuo a spandere I chiaroscuri Proprio spandendo quello che dalla piega dell'occhio Riesco a portare su su tutta la palpebra E poi tirerò fuori in un secondo momento I punti luce O con la gomma pane O con la gomma elettrica Faccio la stessa cosa anche nella parte inferiore dell'occhio Intensifico la parte proprio attaccata alla sclera Poi lascio la rima dell'occhio in bianco E vado a colorare l'esterno dell'occhio Così automaticamente mi si creerà proprio la rima dell'occhio Se dovesse sporcarsi con l'immissione Col passaggio dello sfumino Niente paura Con una matita di gomma O con una gomma immessa in una matita pinza Andremo a pulire la rima inferiore Per lasciarla bella bianca Quindi continuo così il mio sommario chiaroscuro E do la giusta intensità A quelle che sono le coloriture attorno all'occhio Per farlo risaltare A questo punto immetto ancora una 8B Per rendere ancora più aggettante l'occhio Ancora più contrastante Comincio a fare le ciglia Le ciglia anche qui Una a una Con matita molto appuntita Molti fanno partire l'attaccatura delle ciglia Dalla curva dell'occhio Ma questo è un errore Ora per fare delle belle ciglia Vi faccio vedere qual è il piccolo trucchetto Da tenere a mente Ma prima di passare a farvi vedere questo trucchetto Porto avanti ancora un po' i chiaroscuri Ma questo è del tutto personale Nel senso ognuno di voi avrà davanti un occhio differente Quindi qui non mi perdo in chiacchiere Ma vi faccio semplicemente vedere L'andamento dell'immissione dei chiaroscuri In maniera veloce Poi ogni occhio sarà a sé A seconda di ciò che dovrete disegnare Musica 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 Adesso pensiamo alle nostre ciglia Molti fanno la curva dell'occhio E fanno cominciare le ciglia così Molto betty boop diciamo No è una modalità molto fumettistica Non adatte ai disegni Invece voi fate la curva dell'occhio Dopodiché immaginate tante curvette Io adesso le sto disegnando Ma voi in realtà dovrete soltanto immaginarle E dovrete fare partire le ciglia proprio da questa curvette Cioè seguendo queste curvette Vedete Hop Hop Fate cominciare le ciglia dall'attaccatura Poi scendete un po' verso il basso a curva E risalite verso l'alto Et voilà Il gioco è fatto E le ciglia vengono molto più verosimili Musica Musica Adesso vi faccio vedere innanzitutto La composizione veloce di un altro occhio Per farvi vedere una diversa modalità di costruzione del sopracciglio Quello che abbiamo fatto insieme Prima seguiva l'andamento del cerchio Mentre questo secondo che sto costruendo su questo occhio Invece segue l'andamento dell'occhio Della curva dell'occhio Mi spiego Parte sempre dalla curva del cerchio Ma poi a un certo punto Arrivata a metà più o meno dove c'è la pupilla Se ne distacca E segue Si alza un po' più ala di gabbiano Seguendo la curva della palpebra superiore Quindi non segue più il cerchio Vedete Ma ne è al di sopra Questo darà vita ad occhi femmini Ad occhi giovanili E ad occhi sicuramente più svegli E più aggressivi Che non l'occhio che abbiamo disegnato prima E poi naturalmente vado con l'immissione della peluria Pelo per pelo Ciao a tutti! Ciao a tutti! E qui potete vedere la differenza Tra un occhio con un sopracciglio a età di gabbiano Ed uno con uno che segue la curva del cerchio Differenti ma validi entrambi a seconda del disegno che dovrete fare E quindi adesso sta a voi allenarvi A dopo! Bene avete visto Non ci vuole poi così tanto L'importante è prenderci la mano E poi sperimentare i diversificati tagli dell'occhio Ci sono occhi più anziani Occhi più piccoli Occhi più larghi L'importante è che in linea di massima La divisione del foglio in tre cerchi Due laterali sono gli occhi Al centro lo spazio per il naso E anche la linea del sopracciglio Come avete visto potete farla più chiusa Più aperta A seconda del viso più stretto Più largo Queste sono le varianti Che vi si porranno incontro Davanti a miliardi di casistiche di disegni Che potrete affrontare Spero che questo video vi sia stato utile E vi serva la sprone per cominciare a disegnare Se è così disegnatemi un bel pollice in su Condividetelo sulle vostre pagine facebook Venitemi a trovare su instagram Su facebook E su tutti gli altri miei canali Ombretta Due Cuore Una K E naturalmente Incontriamoci sempre qua Per un prossimo video Da Ombretta Ed arte per te è tutto Alla prossima volta Ciao